Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Mara Veniere e suo marito Nicola Carraro, celebre coppia dello spettacolo italiano, hanno da sempre affascinato il pubblico con la loro storia d'amore che dura da ben 23 anni. Tuttavia, nelle ultime ore, un enigmatico post su Instagram ha scatenato preoccupazioni tra i fan. Nella foto condivisa da Mara, si vede Nicola su una sedia a rotelle, molto probabilmente all'interno di un ospedale. Ciò che ha sconcertato i fan è l'assenza di dettagli sulle condizioni di salute di Carraro. La Veniere, solitamente aperta riguardo alla sua vita privata, ha mantenuto un silenzio totale, limitandosi a condividere l'immagine senza alcuna spiegazione. Questa mancanza di informazioni dettagliate ha suscitato molta preoccupazione tra i seguaci della coppia, lasciandoli in attesa di notizie aggiuntive. In modo inaspettato, Mara ha rimosso la storia da Instagram poco dopo averla pubblicata, lasciando i fan con più domande che risposte. Ora i sostenitori di Mara Veniere rimangono in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla salute di Nicola Carraro. Sperando che presto verranno fornite informazioni più chiare sulla sua situazione. La loro preoccupazione è palpabile mentre continuano ad attendere notizie su quello che sta accadendo dietro le quinte di questa amata coppia dello spettacolo italiano. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.